Saluto a tutti, oggi andiamo a vedere come perniciare con una finitura opaca. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare, non restare agli impazzire, vedi come imparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare. Oggi vi voglio spiegare brevemente, insomma per poche parole, come si applica alla fine il trasparente opaco, come bisogna anche preparare i pezzi di una motocicletta che sta abbastanza bene per un cambio colore, che è la cosa più facile e più bella da fare. Un trasparente opaco che sembra, diciamo, una banalità, ma non è la stessa cosa che spruzzare un trasparente lucido. In tanti mi avete chiesto quali operazioni eseguire su una verniciatura preesistente e vi faccio vedere tutti i casi, per esempio, che si possono affrontare durante la riverniciatura di una moto, comprese parti in plastica nuda, compresi il parafanico in plastica, comprese anche delle parti metalliche, come potrebbe essere il serbatoio, quali materiali applicare, come applicarli e in che modo intervenire. Iniziamo subito a lavorare con gli abrasivi, vi faccio vedere quali passaggi effettuare e su quali prestare maggiore attenzione. Voglio iniziare dal serbatoio, per prima cosa dobbiamo rimuovere gli adesivi, questo è quello che è nella parte superiore, per farlo senza rovinarlo più di quanto già effettivamente non lo sia. Con una stecca da sotto, piano piano, in questo modo non si rovina e lo possiamo poi rincollare successivamente. Ecco qua, vedete, senza tirare, senza niente, è venuto via bene. Puliamo poi questa parte di biadesivo sempre con la stecca e facciamo un tanto sopra. Anche questo sopra con la stecca o con una lama di un cutter, fa schifo, però si può anche rincollare volendo. Ok, siccome la verniciatura sta abbastanza bene, ha soltanto dei micro graffietti qua, procederemo ad una pelatura leggera della vernice, fino ad apparare, cioè a portare piano questi graffi con la superficie, dopodiché daremo direttamente la nostra vernice nuova sopra. Non ci sono da fare stucchi o comunque interventi molto profondi, partiremo con una 400, io non voglio dare il fondo qua, voglio soltanto spianare la vernice leggermente, renderlo liscio e verniciare sopra. Perché? Perché non voglio aggiungere materiale dove non è necessario, questo vale come regola su qualsiasi lavorazione voi facciate. Meno materiale c'è, meno ci mettete e meno cose si possono rovinare nel tempo. Parto con una 400, adesso passo una 600 su tutto il pezzo, 600 a mano, in modo che possa essere più accurato, anche un pezzo piccolo. non crediate che spianare a macchinetta sia più professionale piuttosto che a mano, anzi, a mano si fanno meglio le cose, fidatevi. Pronti? Vado a coprire quei due punti in cui ho scoperto, per isolare la lamiera dalla vernice all'acqua. una mano leggera, una mano piena, perfetto, che è appena asciutto, passiamo una mille per un eccesso di zelo, come andremo a dare un grigio metallizzato particolare, allora proprio per eliminare tutte le righe, essere sicuri di eliminare tutte le righe, passo una mille, ma se no generalmente la base sulla 600-800 copre. L'ultimo passaggio lo faccio ad acqua, non è obbligatorio, però in questo modo levo anche la polvere accumulata in decenni di circolazione della moto. Come ultima fase levo questo tappo perché non lo voglio verniciare io francamente e lo metto da una parte, così cominciamo a fare gli altri pezzi. Soffio tutto insieme, metto qualcosa qua dentro per non mandarci la polvere. ripasso i contorni qua con una scotch bright e siamo pronti. Come vedete sono presenti degli adesivi, prenderemo un fono ad alta temperatura, li ammorbidiremo e li spelleremo via. Dovete scaldare gradatamente per non creare arricciamenti sulla vernice, così la possiamo mantenere. vedete una volta scaldato come si leva, facile, si spella. Ok perfetto, faccio anche l'altro. Ricordatevi di ripassare bene a togliere la colla che è rimasta degli adesivi con del solvente. Io uso il diluente alla nitro e bisogna toglierli perché sennò rimane il segno dell'adesivo fondamentalmente poi quando si vernice. Stessa procedura, 400, 600 dappertutto, fondino dove ho scoperto, il fondino ovviamente quello che ho io è polivalente, attacca anche sulle plastiche, sennò dovete mettere un primer o qualcosa dove avete portato la plastica a nudo, ma giusto per scrupola, in questo caso il primer sulla vernice non serve su tutto perché è già verniciato, quindi è una plastica che già è stata primerizzata e già ha avuto la resa dell'aggrappante sulla vernice, quindi voi dovete ridare vernice su vernice non serve primer. Questi due pezzi che il cliente li vuole in tinta che sono di plastica nuda, in questo caso io do una leggera passata di 600 e poi andiamo a dare un primer prima di verniciare e basta. Generalmente dentro le plastiche c'è anche scritto che materiale sono. Quindi da adesso io vado a innanzitutto sgrassare e detergere bene i pezzi perché questa è una fase che non può essere saltata in alcun modo con un sorvente antisiliconico o con dell'alcol isopropilico o con dell'alcol etilico denaturato, con qualsiasi sostanza possa asportare materiale siliconico o grasso. Vi sconsiglio vivamente di detergere con solventi acrilici o con solventi nitrosintetici o alvanitro perché possono portare via, specialmente se avete dato dei fondi monocomponenti. Io uso questo della Palinima, è uguale a qualsiasi altra marca, è buona. L'importante è che sia detergente antisilicone, questo è per basi all'acqua ed è importante utilizzare il detergente per il tipo di colore base che volete dare sui vostri pezzi. Lo metto sul panno oppure posso con uno spruzzino, insomma ognuno ha il suo sistema. L'importante è passare sul pezzo in maniera uniforme a sgrassare bene l'antisilicone. Dove dobbiamo dare invece direttamente il trasparente o prodotti al solvente, bisogna usare un detergente anti-silicone per prodotti al solvente. È un altro prodotto con un altro odore, con un'altra formulazione e lo vado ad usare su questi pezzi in plastica perché qua andrò ad usare un aggrappante a primico diciamo, comunque non è un prodotto all'acqua l'aggrappante. Accendo il forno, prendo una pistoletta d'aria e comincio a soffiare tutti i pezzi compresi i cavalletti, compresi i supporti che tengono i nostri pezzi. Una cosa importante anche che vi volevo dire è di legare, vedete come ho fatto io, i pezzi sul supporto perché specialmente quelli piccoli con l'aria ad alta pressione possono volare via, cadere in terra magari mentre state spruzzate. Vado ad utilizzare un primer per la plastica, però essendo una motor, essendo un pezzo piccolo userò questo di vernici spray.it a bomboletta che vedete che è esattamente per PA come c'è scritto dietro alla plastica. Indipendentemente da quale marca vogliate usare, l'importante che vi ricordiate di dare un primer aggrappante sulle plastiche nude. Ed essere verniciato entro mezz'ora dall'applicazione ma dopo che si sia asciugato. Non spruzzate su questo fresco o su quello, su qualsiasi altro primer fresco perché la ventrice si apre. Ediamo uno strato sottile ma corrente su tutto il pezzo. Per esperienza vi posso dire che meno ne date e meglio è. Ne basta un film sottilissimo. Vado a verniciare. Comincio con uno strato sottilissimo di vernice che sia all'acqua, che sia al solvente o che sia acrilica o che sia come preferite voi. La prima mano, il consiglio che vi do io è farla proprio sottilissima. Sottilissima e uniforme perché se c'è qualche problema, lo vedete subito, se si apre, se si arriccia o qualsiasi cosa, se su uno strato sottile interveniamo subito. In più uno strato sottilissimo specialmente con le basi nuove, con i vernici nuove, con i colori nuovi, fa anche da isolante per determinate problematiche riguardo all'acqua e al solvente. Quindi tappa anche determinate problematiche, determinate le situazioni in cui si potrebbe aprire tutta la vernici. Dopo il primo strato sottile, come vedete asciuga subito, vado a dare immediatamente una mano piena. tenete presente che con una mano soltanto sono riuscito a coprire, però io ho una vernice diciamo di nuova generazione che è fatta proprio apposta che copre molto velocemente, specialmente sui grigi. Nel caso in cui non riusciate a coprire immediatamente dovete dare un'altra mano. Quando adesso ancora è bagnata così, vado a passare l'ultima mano con l'aria a 3 bar, 3 barre e mezzo, prodotto un po' più chiuso, da lontano, per smacchiare eventualmente qualche piccola macchia che può essere venuta sui grigi, che generalmente può succedere. Vedete, ad esempio, se ci fate caso, qua c'è una concentrazione di colore leggermente maggiore, sembra una macchia, più scura. È vero che quando si asciuga sicuramente si leva, ma se io gliela levo prima, non sbaglio mai. Trascorsi 10 minuti che i pezzi hanno avuto tempo di asciugare completamente, vado a dare il trasparente opaco. Vedete come risulta? Non ci si vede attraverso, è opacissimo. Vado a spruzzarlo. Questo è un medio solido. Darò quindi due mani direttamente, due mani leggere, per avere comunque uno strato di trasparente a protezione della base, ma leggere, perché se colate con questo dovete rifare il pezzo. Non esiste lucidare una colatura sull'opaco. La colatura si spiana, però poi farlo ritornare perfettamente opaco, com'è di partenza, è difficile. Vado a dare la seconda quando è ancora fresco, praticamente, dopo 10 minuti. E chiudo il discorso con la seconda mano. Una cosa applicativa del trasparente opaco è difficile da usare. Ve lo dico prima, non è intuitivo e semplice come il trasparente lucido. Dovete darlo con l'aria più alta del solito, stenderlo bene e cercare di non lucidare. Mi spiego, se in alcuni punti fate dei sovraccumuli di trasparente, mentre lo spruzzate, vedrete che avrete delle parti con differente grado di opacità. Quindi l'opacità non è data solo dal trasparente che di per sé è opaco, ma dallo spessore che riuscite a fare e dalla buccia che poi è riuscita a imprimere a questo trasparente. Se fate uno strato molto alto, diciamo vetroso, e soprattutto carico, bagnato, avrà una traslucenza diversa dall'opacità normale. Quindi voi dovete cercare di creare anche tre mani magari, ma leggere, sottili, quindi un effetto soft touch è chiamato. Se ci fate caso tutte le vernici ad un opaco e quando passate la mano sopra non è liscio e scorrevole come sul trasparente lucido. Perché? Perché è un altro tipo di superficie. Se lo fate troppo spesso e troppo bagnato, arrivate a fare un semilucido che va bene uguale, ma dovete essere costanti. Io lo voglio opaco, satinato così, quindi per farlo satinato do delle mani sottili con l'aria leggermente più alta. È asciutto. Passate neanche due ore da quando l'ho verniciati, già sono asciutti, non l'ho cotti col forno, ma lo lasciati così all'aria in ventilazione per mezz'ora, poi ho spento tutto e dopo due ore sono già asciutti che possono essere montati. Questa è una caratteristica particolare per il trasparente opaco. Generalmente tutti i trasparenti opachi catalizzati hanno dei catalizzatori molto rapidi, in quanto è possibile ottenere buoni risultati con catalizzatori rapidi, cosa che non avviene generalmente sui trasparenti ad alta lucentezza, ad alta riflessione, perché asciugandosi troppo velocemente perdono brillantezza. Sul trasparente opaco la brillantezza non esiste, quindi non c'è nulla da perdere e si può fare asciugare velocemente anche come catalizzatori del fondo, per esempio, che sono molto più rapidi. Bello satinato, perfetto. Anche al tocco è abbastanza molto vellutato. Quindi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial.